Ieri abbiamo concluso in Commissione Cultura le audizioni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha parlato anche la Valentina Vezzali, abbiamo incontrato anche Moles dell'Editoria. Oggi votiamo il parere in Commissione Cultura che poi consegneremo alla Commissione Quinta che metterà insieme tutti i pezzi delle diverse commissioni per arrivare in aula settimana prossima a votare la proposta al Governo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stiamo dando il massimo per le famiglie, per le categorie, ce ne sono tante che fanno riferimento alla nostra Commissione che sono in questo momento in vera difficoltà economica, psicologica e penso agli attori, agli sportivi, ai docenti. Quindi stiamo cercando di mettere insieme pezzi per sopravvivere a questo momento difficile ma soprattutto per decidere la ricostruzione.